Buongiorno Mosini, Mosini, devi farti vedere, lo sai che adesso ci sei solo tu in sto canale, hai una grande responsabilità, so che tu fai il bambino, l'eterno secondo, però adesso ci sei tu, guarda che ieri non abbiamo pubblicato nessun video perché la mamma ha avuto una giornata orrenda, e oggi? Che facciamo oggi? Pubblichiamo? Vieni su, vieni, vieni qui, vieni a farmi i fusini, vieni, vieni a farmi i fusini amore, che sei carino, eccolo, stai un po' qui, eh? Vogliamo salutare tutte le zi e gli zi, ma tutti aspettano di vedere come stiamo, dai, eh? Vogliamo far vedere come stiamo? Amore, eh? Sì, sai che mi hanno beccato le zanzare? Lo sai? Picciolino, picciolino, la mamma non vede cosa sta filmando, sei inquadrato, sei a fuoco, boh, la mamma è negata, eh? Ecco, ecco qua, ecco qua, eccolo sulla mammi, sei carino, adesso appena la mammi si riprende un po', inizia il tuo turno dal veterinario, il fatto è che tu sei un pissassero e quindi la pipì bisogna che te la prelevino dalla vescica, amore, non la fai mai in casa, né la cacca né la pipì, la cacca poi non la trovo, dove la fai? Io non la trovo la tua cacca, la fai la cacca? Mi sa che la fai lì dagli operai? Ancora non mi hanno detto niente, ma mi sa che tu la fai proprio nel cantiere, in giardino, non l'ho mai trovato una tua cacchina, amore, come sei carino, guarda, guarda questo profilo, guarda, guarda che meraviglia di profilo, amore, vabbè, zia, diciamo che Mosi è carino, non si può dire di no, è proprio piccolino, qui non si capisce se piove o non piove, stiamo a vedere, io penso che tu sia molto carino, Mosino, ciao zia!